Diciamo che sta partendo la fase 2 del reddito di cittadinanza, in questo momento 3.700 sono i beneficiari circa del Comune di Trieste, di cui 2.000 circa sono quelli aventi diritto al reddito pensionistico. Fase 2 del reddito di cittadinanza, il Comune di Trieste è al lavoro per organizzare la chiamata attraverso i servizi sociali di coloro che percepiscono la misura di sostegno e che devono svolgere lavori utili alla comunità. Dei 3.700 beneficiari triestini sono circa 1.600 quelli da contattare per questa novità inserita nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale. L'obbligo è scattato dallo scorso 8 gennaio e impone agli interessati un impegno minimo settimanale di 8 ore e massimo di 16 per svolgere lavori socialmente utili. 1.600 circa sono le persone che noi stiamo cominciando piano piano a rincontrare attraverso il sistema del servizio sociale. 600 sono già stati incontrati, adesso noi attendiamo anche le disponibilità da parte del Comune ma anche di altri enti pubblici per vedere dove è possibile collocare queste persone. Certo, questa non è sicuramente la soluzione ma sicuramente potrebbe dare un incentivo a quello che è la possibilità di un ricollecamento futuro nel mondo del lavoro. L'ostacolo principale al funzionamento della macchina del sussidio, come spesso accade in questi casi, può rivelarsi la burocrazia. Sì, è anche vero che come sempre nella nostra splendida Italia la burocrazia regna sovrana, le piattaforme non sono ancora arrivate, anzi stanno arrivando in questi giorni per cui tutti i comuni sono un po' in difficoltà proprio per le procedure amministrative. Poi è vero che con dotazione, assicurazioni, formazioni ci sarà un bel po' da lavorare ma insomma siamo pronti anche a questa opportunità che daremo alle persone. Grazie a tutti.